Dedico questo pensiero ai bambini, ai ragazzi delle scuole del sud e del nord, del comune di Canosa di Puglia e di Pederobba, a questi ragazzi a cui la memoria storica degli eroi caduti nel primo conflitto mondiale ha insegnato a vivere ancora oggi come fratelli d'Italia. Non aveva ancora 18 anni mio nonno Peppino nei suoi affanni e già fu chiamato al fronte sul piave chiudendo il cuore di casa a chiave. Non c'era telefonino per nonno Peppino e alla sua promessa sposa una lettera scrisse dal piave a Canosa. Dai campi di Puglia partì analfabeta, aveva la guerra come sua meta. Ad un amico dettò di scrivere Caranella per dire ti amo alla sua Rosinella. Tornò dal fronte, perciò sono nato e fu il testimone di ciò che ho studiato. Ma un altro giovane partì dalla nostra terra per sacrificare la sua vita nelle trincee della guerra. Così è scritto sulla pietra della sua casa nativa dove un tempo la sua voce era viva. Tenente medico Francesco Iacobone, deceduto in trincea sotto i colpi di cannone, soccorreva i feriti in nome della libertà, sostenendo per l'Italia la nostra unità. Nel fiore degli anni si votò al sacrificio per dare ai posteri un gran beneficio. Era la notte tra il 18 e il 19 novembre 1917 e la sua anima volò sulle gelide vette. Il suo sangue bagnò la terra del Monfeneira, scrivendo sui libri una storia vera. Grazie, eroi per noi caduti. Grazie anche a quelli a noi sconosciuti. I vostri sacrifici non saranno mai perduti. Oggi rinascono nobili sentimenti fra i sentieri dei bombardamenti, fra una scuola del sud e una scuola del nord, con la storia d'Italia che fa da raccordo. Il fango delle trincee, intriso di sangue rosso, è diventato nel luogo pietra rossa. È il nome di Pederobba, che custodisce gli ossari, monumenti poveri di giorni amari, estrema linea difensiva per una storia maestra viva. Terra del Monfeneira, che conservi le pietre del bombardamento, accogli dal sud il mio sentimento. Tra i nostri eroi sono cresciuti i vigneti, tra i vostri caduti sono cresciuti i castagneti. Il vostro colore è dolce di marroni, in una fiera di festa e di suoni. Terra del Monfeneira, che delle bombe conservi nel Museo Leco, porta a Dio le parole del sogno che prego. Il tempo di un conflitto, oggi tace, perché crediamo più alla pace. E' bello oggi stringerti la mano, da Canosa di Puglia ti scrivo lontano. E come i nostri fiumi si uniscono in mare, siamo fratelli d'Italia, nel dire e nel fare. Vostro Maestro Peppino di Nunno e come i nostri fiumi si uniscono in mare, vostra a Dio le porte. A Dio le parole di Nore